E salve a tutti, siamo qui sul canale ufficiale di Apple Zay, noi siamo Mirko, Daniele, Ivan e Antonio, siamo in fila al day one dell'Apple Store di Catania, sì lo so, siamo pazzi, stiamo facendo il day one, da premettere che tutti e quattro abbiamo i reservation bus, però ce lo stiamo facendo come dei poveri dementi e stiamo per riposarci un po', per chi volesse venire non può più venire perché hanno chiuso i cancelli e riapriranno alle 5 di mattina, quindi chi volesse venire all'evento dovrà farlo comunque dopo le 5 di mattina, quindi domani mattina vi aspettiamo, l'Apple Store di Catania, Centro Sicilia, l'appello inizierà dalle ore 10. Ragazzi facciamo tutti un saluto, ciao ragazzi, buonanotte!